In questo video vorrei analizzare con voi i migliori titoli americani secondo il tool di stock picking azionario di Zagos. Noi di Zagos abbiamo elaborato ormai da 13 anni un sistema di stock picking azionario che seleziona le azioni tenendo conto di diverse variabili che sono appunto mostrate a capo di ogni colonna, quale l'analyze estimates, il price momentum, la valuation, il cash flow, i dividends, la crescita e il posizionamento degli operatori. Tutto questo viene condensato in uno score di Zagos che tanto più si avvicina a 100, tanto più indica che il titolo è interessante dal punto di vista fondamentale e del momentum. Quello che emerge da questa selezione appena fatta è che non appaiono più i titoli tech, cioè titoli come Nvidia, Google, Meta, Microsoft, i magnifici 7 non sono più tra i primi 30 e questo già è un aspetto molto interessante. L'unico titolo tech che è esposto al tema dell'intelligenza artificiale è Arista Network che rimane tra i titoli selezionati ma con valutazioni 31,94 su 100 che indicano che il titolo è piuttosto caro. Altro titolo tech è Motorola Solution che però è meno esposto al tema dell'intelligenza artificiale, gli altri titoli sono sostanzialmente titoli appartenenti ad altri settori e questo fa già riflettere su questa selezione. Indica che alcuni titoli del comparto tech sono un po' arrivati, il mercato è meno ottimista per esempio se ne scorriamo giù la selezione sicuramente appare Alphabet ma con un atteggiamento degli analisti più cauto rispetto a quanto fosse nella prima parte dell'anno per esempio. Appare comunque Nvidia che però è appesantita da valutazioni elevate e da un trend del momentum del prezzo un po' confuso perché il titolo ha un po' rotto quello che era il trend di lungo periodo. Invece appunto si distinguono altri titoli come Baker Hughes, PayPal che è una società appunto del settore dei pagamenti che conosciamo tutti che dopo un periodo di forte stallo incomincia a dare qualche segnale di ripresa nel business l'ultimo reporting è stato particolarmente incoraggiante. Abbiamo Fortinet che è un altro titolo sicuramente interessante da seguire altro titolo è Leidos su cui noi di Zeidos abbiamo scritto da poco un approfondimento e poi altri titoli che appunto sono assolutamente appartengono alla street economy, all'economia di tutti i giorni e non al comparto tech. Quindi questo per darvi un aggiornamento, questo scarico noi poi lo rendiamo pubblico in un report che pubblichiamo ogni mercoledì in cui evidenziamo i migliori trend e i peggiori trend sia per il mercato europeo che per il mercato americano anche per il mercato italiano con altre analisi più specifiche in cui analizziamo i titoli più cheap, i titoli preferiti dagli analisti i titoli quality che combinano crescita e capacità di produrre flussi di cassa in modo consistente nel tempo quindi questo è giusto per darvi un'idea su quali siano per adesso i mood degli analisti e del mercato che tendono a prevalere meno i titoli del comparto tech e più ad altri titoli esposti alla tenuta del ciclo macro Grazie! 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 Grazie!